Rivendicare anche a livello internazionale la specificità e la qualità del sistema universitario italiano come motore di innovazione e conoscenza dinanzi alle sfide dell'Agenda 2030. È uno degli obiettivi strategici al quale sta lavorando la RUS, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile. E tra le iniziative per concretizzare questo obiettivo c'è l'organizzazione di un grande evento sulla sostenibilità nell'ambito dell'Expo 2020 di Dubai. Patrizia Lombardi, presidente del comitato di indirizzo RUS. Il target più importante è quello di riuscire come sistema universitario nazionale ad essere anche a livello internazionale riconosciuti. Ci sono tanti ranking, tra cui il Green Matrix, che non riconoscono le specificità dell'Italia. I nostri campus sono disseminati all'interno delle città che sono costruite e sono a se stesse opere d'arte. Siamo qui a Pisa e lo vediamo chiaramente. Quindi l'obiettivo è di far emergere le nostre specificità anche a livello internazionale. Ci stiamo muovendo, per esempio, il prossimo convegno a Expo 2020, che sarà a Dubai, e sarà una vetrina importante per tutto il sistema nazionale universitario e anche per tutto il sistema delle imprese, che supporterà questo grande evento. Un forum internazionale sulla sostenibilità. A Pisa, per partecipare alla quarta tappa del Giro d'Italia, organizzato dal Salone della Siesarra, alla scoperta dei territori della sostenibilità, Lombardi affronta le critiche, respingendo con forza l'accusa, sollevata da alcuni ambienti impreditoriali, di un sistema universitario non al passo con le nuove domande di professionalità. Il tema dei sustainable jobs è un tema sicuramente di frontiera, ma anche con dei punti interrogativi. Nel senso che adesso, come adesso, proponiamo degli sbocchi professionali, che non si sa neanche se saranno gli sbocchi professionali del futuro. Noi, come università, ci stiamo attrezzando, invece, in questa direzione, e cioè nella possibilità di una innovazione nella didattica, che consenta ai nostri studenti e futuri professionisti di essere in grado di rispondere ai challenge, alle sfide che la realtà e la dinamica della nostra realtà propone. Quindi, è vero, nel passato si è sempre un po' vissuta questa rigidità, perché per settori scientifici disciplinari, e quindi per saperi cosiddetti verticali asilos, ma in questo momento le università sono molto impegnate in una didattica innovativa, che sia trasversale e che offre l'opportunità al nostro cittadino del futuro di attrezzarsi, per essere anche un risolutore di problemi reali e quindi anche del cambiamento climatico. Nata nel 2015, la Russo oggi mette in rete 64 Atenei, che condividono le migliori esperienze in tema di sostenibilità, sia per quanto riguarda la gestione delle strutture, sia per quanto riguarda la diffusione delle conoscenze. La Russo si sta muovendo in tutte e tre le diverse missioni dell'università. A livello di campus sostenibile, quindi a livello infrastrutturale, per essere ogni università un modello di cambiamento, deve in qualche modo essere anche concentrato sull'innovazione e sulla opportunità di avere un efficientamento energetico, per esempio, dei propri campus. Ma non è solo quello, anche a livello di educazione e anche a livello di ricerca, l'Agenda 2030 con i 17 Sustainable Development Goals propone un'opportunità di cambiamento alla quale le università non possono esimersi. Atenei come motore dell'innovazione, un ruolo connaturato all'idea stessa di università, ma quando viene declinato in chiave sostenibile, richiede quindi la consapevolezza di un nuovo atteggiamento dinanzi al dovere di rispettare le generazioni future.